Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Delusione scandone, addio alla Champions Sacripanti, partita dura Lo sforzo non è bastato Della Pia botte e denunce Il segretario del PRC Scambiato per un ladro è picchiato È accaduto ieri sera Poi ovviamente avremo modo di parlarne Per la politica Lista insieme Noi partito vero Oltre le urne Sanità ambulatorio Asla, Iannacone contro il trasferimento Multe da pagare Due volte Folla dai vigili urbani Anche il quotidiano del sud Sceglie l'apertura Con quanto accaduto A toni della Pia Scambiato per ladro picchiato Trasportato in ospedale Solidarietà della CGL Atto grave Ora la verità Dell'accaduto Furti, comuni e pronte Trenta telecamere Ancora la politica Ad Agostino Nessun conflitto di interesse Locunte Noi veri moderati Pace fatta tra Mastella E De Girolamo La Procura presenta Nuovi atti Ed il riferimento E al processo Sulla strage Del bus Carlo innanzitutto Grazie per la collaborazione Allora Mi sembra Assolutamente Doveroso Stamattina Dare piena Solidarietà Al toni della Pia Che ieri sera È stato Protagonista E vittima Davvero Di un bruttissimo Episodio Che dovrà essere chiarito Sarà chiarito sicuramente Nelle prossime ore Il segretario del PRC È stato scambiato Per un ladro È stato picchiato Dalla Dalla polizia Dei poliziotti Della questura Di Salerno Un occhio Tu mi hai fatto Vediamo Dalle foto Ma Carlo Mi diceva Anche La caduta di un dente Tu hai avuto modo Di parlarci Con toni della Pia Sì Buongiorno a tutti Sì Ieri sera Ho sentito Della Pia Poco dopo L'accaduto In verità Standova anche A crederci Se proprio Debo dirlo Tutto all'inizio Pensavo Che chi Mi aveva passato La notizia Mi stesse prendendo In giro Invece no È accaduto È accaduto Purtroppo È un bruttissimo Episodio Figlio Di uno scambio Di persona Quello che sembra Di capire Dal racconto Di Della Pia Lui è stato Fermato Dalla polizia Sul raccordo Avellino Salerno Senza neanche Chiedere gli documenti È stato tirato fuori Dal camion Sul quale Viaggiava Della Pia È un politico È un candidato Alle prossime Elezioni Ma È un lavoratore Nell'edilizia Lui era a bordo Di questo camion E l'ho tirato giù Senza chiedergli Neanche i documenti È stato picchiato Ora A prescindere dal fatto Che poteva Anche essere La persona Che stessero cercando Innanzitutto Bisogna fermarla Eventualmente Ammanettarla Non credo sia questo Il modo di agire Delle forze D'ordine Infatti È proprio questo È proprio questa Dottore La questione Può esserci Anche uno scambio Di persona Ma non Per questo Si fermano Le persone Ad un posto di blocco Ad un normale controllo E si alzano le mani Certo Buongiorno innanzitutto Certo Purtroppo L'aggressione Va sempre denunciata Anche se viene commessa Da poliziotti Però Chiaramente Prima di esprimerci Accertiamoci Sull'accaduto Quello che è successo A questo fermo Allora La notizia Che Le interessa Più da vicino Anche se Fino a un certo punto Dottore E questa che riguarda La sanità Ambulatorio Asla Iannacone Contro il trasferimento Praticamente Intenzione Della Morgante Trasferire L'ambulatorio Da via Degli Membo All'ospedale Maffucci Più noto Agli Avellinesi Come L'ospedale Vecchio Il che Causerebbe Notevoli Disaggi All'utenza Però La Morgante Dice Dall'altra parte Non solo All'utenza Ma anche Ai dipendenti Lei ha avuto modo Di parlare Con la dottoressa Morgante E di affrontare Questo tema Certamente Mi interessa Moltissimo Da vicino Perché il compito Dell'ordine Il primo compito Dell'ordine Alla tutela Della salute Del cittadino Quindi io Mi sono espresso Chiaramente In interviste Sui giornali Contro questo Trasferimento Proprio perché Avrebbe causato Dei notevoli Disaggi All'utenza Sono stato Convocato Dalla Morgante Al quale Ho posto Molti Problemi Lei Proponendogli Anche delle alternative Come avevo letto Anche dalla Stampa Informato Da alcuni Amici Che è quello Del Moscati Di Viale Italia Lei mi ha Confermato Che però Per mettere a posto Il Moscati Dopo un sopralluogo Era stato fatto Ci sarebbero voluti 6 milioni di euro Che francamente L'AS Non l'aveva E non avrebbe avuto Dalla regione In alcun modo E quindi Si era Dirottato il tutto Sul Sul Maffucci Dove L'impegno Di Spesere Di 1 milione E 2 A questo Sinceramente Io Non potevo Obiettare Ho chiesto Alla Morgante Però Di valutare L'opportunità Invece di trasferire Gli ambulatori Quindi il distretto Di Avellino Trasferire L'amministrazione Chiaramente Anche qui Ci sono delle difficoltà Perché ci sono Molti dipendenti Dell'AS Di Avellino Che vengono Dalla provincia Raggiungono Avellino In Pullman E poi dovrebbero Prendere un altro Pullman Per arrivare Al lavoro Sarebbe stato Disagevole Anche per loro Che tutti i giorni Fanno questa strada Che potevo dirgli Di più Dico Allora Accertatevi almeno Che l'AIR Metta delle navette Ogni 20 minuti Per poter Ridurre il disagio Al minimo Questo è stato Un impegno A onor del vero Che lei ha preso In ogni caso Come ordine dei medici Noi giovedì prossimo Abbiamo un consiglio Ad hoc Su questo argomento E quindi esprimeremo La nostra posizione Carlo Gira che ti rigira Alla fine I disagi Cadono sempre Sull'utenza Quindi Su noi cittadini Ma sì Questa sembra Questa notte Ci sono Mi sembra abbastanza Scellerata Ora È stato fatto Anche uno studio Sul Moscati Per riprenderlo C'è un'associazione Che si è occupata Negli ultimi tre anni Quattro anni Da un po' di tempo Comunque Che si chiama Avellino Rinasce Che si è occupata Del Moscato E di far trasferire Gli uffici dell'AS All'interno di quella struttura Per tenerla viva Ma soprattutto Per rivitalizzare La zona di Via d'Italia Che è completamente Morta Da quando è andato via L'ospedale Lo studio dice Che non servono I 6 milioni Di cui parla Una morgante Servirebbero gli stessi Che servono Per mettere a posto Il maffucci Con una piccola differenza Che però Ci ritroveremo Una struttura Aperta al centro Città fruibile Da cittadini Fruibile Dai dipendenti E che farebbe Rinascere Una zona Che è stata Una zona commerciale Di buon livello In questa città Via d'Italia Era Dopo il corso Proseguiva il corso Ma proseguiva Anche dal punto di vista commerciale Il corso Adesso non c'è più niente Se rimettiamo in sesto Un ospedale Che si trova In periferia A qualche chilometro Da qui Non è neanche distantissimo Però lì non c'è nulla E qui mettiamo in moto L'economia di una città Sicuramente Tra poco Se continuiamo di questo passo Non ci saranno Neppure più i platani Lungo il famoso Viale dei platani Visto che Li stanno Praticamente Abbattendo Quasi tutti Videosorveglianza Pronte 30 telecamere Carlo Irici È stata questa Riunione In prefettura Una riunione Lunghissima Quando tutti noi Della stampa Siamo andati via Erano circa le 13 La riunione Era ancora in corso Però siamo riusciti A sentire Il comandante Della polizia municipale Arbonio Che diceva Che saranno posizionate 30 telecamere Nelle zone più a rischio Vaglia a dire Contrada Sant'Eustacchio E Contrada Archi Però anche in questo caso Bene Lo dicevo anche ieri Nell'intervista con il comandante Anzi Benissimo Però quella zona Va anche Illuminata Perché Se in questi anni Ho imparato Un pochino 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 Qualcosa di tecnico Penso che una telecamera Al buio Non riesca a riprendere niente Beh sì Io ho ascoltato Anche la tua domanda E la trovo Molto Molto pertinente Serve l'illuminazione Serve che queste telecamere Funzionino Perché in città Ci sono già altre telecamere Ma non tutte Funzionanti Quindi va bene Va benissimo La gente in quelle zone È disperata Io credo che non sentirsi padroni In casa propria È davvero avvilente Però è così Io ho degli amici Che soprattutto A Contrada Archi Fanno i turni Alle abitazioni Non lasciano le abitazioni Soli Per paura Dei ladri Questo mi sembra Una privazione della libertà Che è inaccettabile Nessuna colpa Alle forze dell'ordine Insomma Non è questo Il mio appello Però ecco Serve una telecamera Lì serve di tutto Loro non hanno l'illuminazione Non hanno neanche le fognature A Contrada Archi Non c'è nulla proprio Se proprio Dobbiamo dirla tutta Quindi questo è un primo passo Sperando che Realmente si possa fare qualcosa Io mi auguro Innanzitutto Che le telecamere funzionino Perché in questa città Ci sono delle telecamere Ma non funzionano Dottore Altro tema Di grande attualità Ne abbiamo anche Già parlato Qualche settimana fa E' quello ambientale Ieri sera E' stato Fatto un incontro A Borgo Ferrovia Si è tornati a parlare Di isochimica E' quello che dicevamo Ieri sera Al termine Di questo incontro Più si parla Di isochimica Più si scoprono Nuovi scandali Ieri lei Era presente A questo incontro E la testimonianza Dell'ex direttore Dell'ispettorato Del lavoro E' stata forte Ma per alcuni versi Soprattutto grave E' stata una denuncia Vera e propria A dire la verità Sì ho partecipato Ieri sera A questo incontro Invitato Da Aldo D'Andrea Un collega carissimo E abbiamo ripreso Questi temi Che stiamo portando Avanti da tempo Quest'ordine Ha molto a cuore I temi ambientali Tant'è vero Che ha Diciamo Programmato Ha formato Una commissione ad hoc All'interno Del Consiglio Di cui fanno parte Anche i colleghi Franco Mazza E Aldo D'Andrea Come esterni Sono i colleghi Che più di tutti Si stanno impegnando In questa battaglia Abbiamo fatto già Una quindicina di giorni fa Un incontro Insieme a Franco Mazza E le sue organizzazioni All'Astra Con la dottoressa Morgante Da qui è venuto fuori Sono venute fuori Alcune cose molto importanti Una è che Il registro tumori Finalmente In dirittura di arrivo E questo è uno strumento Essenziale Per poter poi Vedere effettivamente L'incidenza dei tumori Nelle nostre zone Io infatti dicevo a Franco Che voleva fare Uno studio epidemiologico Solo sulla zona Della Val del Sabio Che era perfettamente inutile Bisognava allargarlo A tutta la provincia E questo abbiamo proposto Abbiamo proposto Di confrontare I risultati Il registro del tumore Con i risultati Di database Dai medici di famiglia Che sono Dei database straordinari Contengono informazioni Che non si troverebbero In nessun altro database Quindi Andremo avanti Su questa strada Per quanto riguarda Il studio epidemiologico Per quanto riguarda L'isochimica Invece dicevo ieri sera Che facendomi una chiacchia Ieri mattina Aggiungevo un elemento Diciamo Facendomi una chiacchia Ieri mattina Con una collega ginecologa La dottoressa Carla Ciccone Del Moscati Lei mi diceva Di aver notato In un'area Di circa Un raggio di 2 km 3 km Dall'isochimica Un aumento notevole Dei casi Di tumori ovarici E del mesotelioma Peritoneale Nelle donne Questo È un fatto Estremamente grave Chiaramente Non ha niente di scientifico Questo dato Perché è un'impressione Solo sulle viste fatte Dalla dottoressa Ciccone Però Andiamo a vedere È una spia Che dovremo confrontare Con il registro tumori E con i database Dei medici di famiglia E valutare se effettivamente Questo è Perché le donne Giustamente come si diceva Ieri sera Purtroppo Lavavano i panni Che i mariti portavano A casa Ed erano cariche Di fibre di amianto Ovviamente Carlo Questo effettivamente È un incubo Che sembra Non voler finire mai Questo dell'isochimica Ieri Sempre al termine Di questo incontro È stato lanciato Un vero E proprio Appello Dall'associazione Lotta per la vita Vale a dire Parte una raccolta Di firme Da Borgo Ferrovia Perché la gente Vuole assolutamente Che il processo Torni ad Avellino E questo Mi sembra Il minimo Che si possa fare Dopo che Questa città Ma non solo La città Dopo che l'Irpina Questo processo L'atteso per ben 30 anni L'isochimica È un problema Che questa città Sente poco Nonostante Sia una La più grande Strage del lavoro Che ha vissuto E speriamo Anzi Sono certo Che sarà l'ultima È stato Forse neanche tutti Sanno che il processo Si sta svolgendo a Napoli Perché qui Non c'è una struttura Adatta Il tribunale A poterlo ospitare Ma neanche altre strutture Sono state ritenute Donne A poter ospitare Quel processo Il problema Dell'isochimica Non è Borgo Ferrovia Forse A gente sfugge Questo Il problema L'isochimica Ha riguardato E riguarda ancora Tutta la città Perché Le polveri sottili Non sono rimaste In quella zona Le polveri sottili Vengono via Sono venute via col vento Non è interessata Tutta la città Ora Ci sono le mogli Degli operai Gli operai Sono tutti ammalati Ma Quanti casi Potrebbero essere In città Che noi Insomma Che la medicina Non è riuscita Ad abbinare All'isochimica Ci dovrebbe essere Io L'impegno Da parte delle istituzioni In parte l'ho visto Questo forse Bisogna essere Bisogna essere onesti Però Credo si possa far di più Non voglio credere In questa città Non è possibile Celebrare un processo Così importante Che Dalla parte di quello Di Casale Monferrato Del quale si è discusso Su tutte le tv nazionali E invece Il processo Di sequimica Sembra Un processo Di secondo piano Dove Ci sono Tante persone Indagate Ci sono tante responsabilità Senza dimenticare Ci sono Soprattutto E purtroppo Tanti morti E tanti ammalati Dottore Lei prima ha fatto Riferimento Al registro Dei tumori Ieri Subito dopo Che lei andò via Non vorrei sbagliare Il cognome Intervenendo il suo collega Il dottor Olivero Giusto se ricordo bene Il cognome Che partecipava Al tavolo Questo medico Ieri sera Disse Non so se lei Può darci Conferma Di questa cosa Che l'incidenza Dei tumori Sui bambini In Irpinia È maggiore Rispetto Addirittura Alla terra Dei fuochi In verità Sentire questa cosa Mi si deve spaventare Penso che Un po' tutti Si sono spaventati Credo fosse Il dottore Filomeno Caruso Credo Non so dove abbia preso Questi dati Perché Come sappiamo Non abbiamo ancora I dati Del registro Tumori Quindi sinceramente Diremmo delle cifre Che potrebbero Effettivamente spaventare Inutilmente le persone Quindi aspettiamo Un attimo Prima di Sparare cifre Io aspetterei Aspettiamo Però cerchiamo Di dare anche Una risposta Quanto prima Alle persone Il registro tumore Deve essere solo validato Quindi una volta Che ha avuto la validazione Dagli organismi competenti Sarà fruibile A tutti E quindi Io come presidente Dell'ordine dei medici Chiederò Di averne copia E ne discuteremo poi E daremo Ampia diffusione Delle notizie Che dovremo dare Dottore Sempre in tema Di sanità Un'altra cosa Della quale si è parlato Soprattutto nelle scorse Settimane Gli ospedali riuniti Lei cosa pensa? E questa Potrebbe essere Effettivamente Questa la soluzione Sia per Solofra Che per l'azienda Ospedaliera Moscati Allora si sta parlando Moltissimo Di questo Io ho già espresso Il mio parere Di non contrarietà A questa cosa Ma nel senso che Se questo deve servire A una riorganizzazione Degli ospedali Va benissimo Perché come dicevo È improponibile Con le risorse attuali Che si hanno in sanità Di dover Poter tenere Due medicine Oppure due Genoecologie O due ortopedia A sei chilometri di distanza È un lusso Onestamente Che non ci possiamo Più permettere Però se questo Significa chiusura Di uno dei due ospedali Allora a questo punto No Non ci siamo Assolutamente non ci siamo Riorganizzazione Quindi allocare A Solofra Dei servizi Che possono essere utili E che non si troveranno Al Moscati E viceversa E quindi Mantenere La forza lavoro Mantenere il servizio Sul territorio Per i cittadini Immagino mantenere Innanzitutto Il pronto soccorso In entrambe le situazioni Allora Per il pronto soccorso Sono d'accordo Però Dobbiamo distinguere Sulle attività Del pronto soccorso È che io Onestamente Se ho un infarto A Montoro Preferirei essere portato Direttamente Al Moscati Dove ci sta Lutic Invece che Fermarmi prima A Solofra Dove Lutic Non c'è Mi visitano Si perderà un po' Di tempo E poi si fa Il trasferimento Al Moscati A quel punto Ci vuole una centrale Operativa Che sappia Distinguere i casi E inviarli A seconda Delle necessità Nei non so comi Dove è previsto Il protocollo Per quello Assisito Per quello Ammalato Carlo Qual è invece In merito Il tuo parere Per quanto riguarda L'ipotesi Degli ospedali riuniti Tecnicamente Non ne saprò Certamente Di più Però Io Mi sono chiesto Questo Come può Potrei anche Estrefavoribile Come può L'azienda Ospedale La Moscati Sostenere L'ospedale Andolfi E non può Farlo L'ASL Perché siamo Arrivati a questo La domanda Principale Credo che sia Sia questa qua Ora va bene Se si salvaguardano Posti di lavoro Si salvaguarda Soprattutto l'utenza Però perché Siamo arrivati A questo punto Dove ci deve essere Un'altra azienda Che Come se stessimo Parlando Tra privati Gli ospedali Sono pubblici Sono finanziati Con soldi pubblici E dovrebbero funzionare Alla perfezione Tutti Qui invece Abbiamo Soltanto notato Che hanno Chiuso Ospedali Antierpini Mettono in discussione Un ospedale Come quello Di Sofra Che serve Un'utenza Non è solo Quella Antierpina Non ricordo Quanti comuni Sono tantissimi Stiamo parlando Anche Dell'agronocerino Sarnese Come può Un ospedale Del genere Non avere Più servizi Non avere Più fondi Per andare avanti Quindi Per me va bene L'accorpamento Perché funzioni Tutto Però c'è Forse Porsi una domanda Di fondo Come siamo arrivati Fino a questo punto Quello Mi fa pensare Mi fa dubitare Un po' Mi fa anche rabbia Perché poi i servizi I servizi cittadini Non possono essere tagliati In questo modo A me Personalmente Da fastidio pure Il fatto che Dobbiamo andare dai privati A curarci E non possiamo andare All'ospedale Dove Leggevo ieri Da qualche parte Ci sono delle persone Che hanno aspettato Tre mesi Per forse un attacco Potrei sbagliarmi Sono andato all'ospedale E gliel'hanno prorogata Gli altri tre mesi Pazienta Non è questo il caso Muore Non ha il tempo Di curarsi Se io vado all'ospedale Ci pubblico Pagato con i miei soldi Voglio essere curato Ma curato anche Nei tempi giusti Non nei tempi Che decide Decide lo Stato Io in tre mesi Posso perdere la vita Non si può scherzare Queste cose Quindi ben venga Questo accorpamento Se funzionale A risolvere questi problemi Sulla sanità Ci sarebbe Un discorso Non sono neanche io Deputato a farlo Ma un discorso Secondo me enorme Il collega si chiede Dottore Come si è arrivati A questo punto La domanda La rivolgo a lei Allora Come si è arrivati Non lo so Sinceramente Però Quello che volevo dire C'è una discussione Addirittura c'è qualcuno Che sostiene Che tutti gli ospedali Vadano gestiti Da un'azienda autonoma E l'ASL Faccia solo territorio Diciamo che Questo potrebbe essere Anche una soluzione Però Già questa di Solofra Che non rappresenti Una chiusura Dell'ospedale Che sia un aumento Dei servizi Ai cittadini Può essere utile Per quanto riguarda Il problema Delle liste d'attesa Quello è un grosso problema Che va affrontato Che io avevo fatto Una proposta Si sta parlando Del cupo unico Ospedale Azienda Azienda Territoriale Diciamo ASL Io ho detto Va bene il cupo unico Però secondo me In questo cupo Vanno messi anche Tutti i privati convenzionati Perché se uno Deve prenotare una TAC E ci sono cinque convenzionati Sul territorio Che fanno le TAC Perché non dovrebbero Entrare in questo circuito Visto che sono pagati Dall'ASL Per fare questo servizio Quindi mettiamo tutti In questo cupo In questo centro unico Di prenotazione E probabilmente I tempi si accorceranno Notevolmente A me quello che fa Più rabbia Soprattutto quando si parla Di questi argomenti È che l'Irpinia È una città Delle eccellenze Per quanto riguarda La sanità Però sembra che Siamo in pochi Ad accorgercene Sembra che si faccia Sempre Troppo poco Per metterci in mostra In senso positivo Perché? Ma Se noi pensiamo Agli illustri Medici Che vengono Anche Diciamo Vanno alla ribalta Delle economie nazionali E poi guardiamo Lo stato dei fatti È vero Questo fa rabbia Non lo so Se siamo Se la sindrome Di Tafazzi È anche questa E quindi Siamo abituati A farci del male In questo modo Ma io se butto L'occhio dall'altra parte Guardo che La coracina È chiusa E infatti In un caso Ne hai portato La coracina Da questa parte Questo non credo sia Non fa bene a nessuno Non fa bene A questa terra L'Ispigna È inspiegabile Per certi versi Però abbiamo Un po' Siamo autolesionisti Per certe cose Non abbiamo Delle eccellenze Nel campo medico C'è il dottor Gridelli Per cedarne una a casa Che certamente Il dottor Gridelli Gira il mondo È vero che Lui è napoletano Trapiantato da Avellino Ma Sta qua tutti i giorni È il primario Del suo reparto Al Moscati Però poi Abbiamo Queste situazioni Ma ci sono tanti reparti Che funzionano bene Abbiamo avuto il dottor Rosato Che adesso È andato in pensione Però il dottor Rosato È stato È un cardiologo Di altissimo livello Ce ne sono tanti 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 Però non riusciamo a fare niente Poi Leggiamo il lacino Ma infatti Voleva essere Se vuoi Anche un po' Una provocazione Proprio perché Avevo letto Di questo titolo Laceno Battaglia vinta Dal comune Io non so Fino a che punto Per come Infatti Per come è ridotto Il laceno Possiamo parlare Di vittorie Da parte di qualcuno Ovviamente Non vuole essere Una polemica Con il comune Di Bagnoli Irpino Ci mancherebbe altro Il consiglio di Stato Dà ragione all'ente Nella querelle Con la società Giannoni Le seggiovie restano chiuse Il gestore Dovrà consegnare le chiavi Fatto sta Dottore Selitto Che Si è persa Una Completamente Una Una stagione Invernale Si dovrà mettere Mano Ai lavori Ma Quando si fa Tutto Tutto questo Nel frattempo Il laceno Le realtà Del laceno Che fine faranno? Stiamo chiudendo tutto In Irpinia Quindi chiudiamo Anche questo Sicuramente Per il turismo È stata una botta Notevole Quindi Ha sofferto Moltissimo Il turismo Di quella zona Ma io Mi auguro Che questa Querelle Finisca presto Che il comune Che pare che sia Il gestore Dovrà diventare Il gestore Degli impianti Metta mano A questi impianti Che dovranno Essere riformati Perché non più sicuri E quindi si riparta Con la prossima Stagione invernale Almeno Ce l'auguriamo Leggo Carlo Che il Consiglio Di Stato Si è espresso In favore Del comune Di Bagnoli Condannando La società Che gestiva Le seggiovie Ad essere condannati Sono stati Gli abitanti Della zona Sono stati I ristoratori Della zona Siamo stati Anche noi Cittadini Indipendentemente Da chi Usufruisce o meno Delle piste Da sci Ma alla cena Non si va solo Per sciare Io penso Che all'utente Al commerciante Al cittadino Di Bagnoli All'abitante Della Cino A chi ha le case Della Cino Non interessa nulla Di quello che è accaduto A parte Loro Il comune Fa bene A far valere Sui diritti E il gestore Allo stesso tempo Gli impianti Debbano funzionare Tra un anno Tra due anni Tra cinque giorni Si stabilirà Chi ha torto E chi ha ragione Se qualcuno Deve dare Da E l'altro Riceve Ma non si può Chiudere un impianto Non si può pensare Di distruggere Una delle pochissime economie Che abbiamo In questa provincia Alla Cino Ci venivano Ci venivano Adesso si sono tutti trasferiti Di tutta la regione Lavora fortunatamente Anche d'estate Però D'inverno La neve Il posto è bello Anzi Secondo me Vanno investiti Anche parecchi soldi Perché Dobbiamo Vanno Io non ci vado Purtroppo A Roccaraso Vanno a sciare Quando è la Cino Ce l'abbiamo A pochi chilometri Non ha tantissime piste Ma quelle poche Che ha Sono delle buone piste In passato C'erano carovane Di persone Che la domenica Il sabato Venivano qui Passavano il weekend Passavano per Avellino Quindi Non è soltanto La Ceno E la Ceno E Montella E la città di Avellino Riuscite l'autostrada Abitavo là Abitavo da quelle parti La domenica Era impraticabile C'era una marea di gente Non dico Che tutti andassero Alla Ceno Ma a buona parte Sì Oggi non c'è nessuno Ora Il sindaco Negro Il gestore Giannoni Si debbano fare Più che altro Questa domanda Situazione che credo Sia Deleteria Più per il sindaco Perché poi è lui Che andrà a chiedere Consensi Ai cittadini Pur avendo ragione In questo caso Rispetto ad un privato Che ha perso L'investimento E poi farà Del tutto Per recuperare Quello che può recuperare Però Chi ne pagherà le conseguenze Credo sia soprattutto Il sindaco Con questa casa Sicuramente Carlo Chiudiamo Velocemente Con te Con il dottor Dottore Lei è tifoso Certo che sono tifoso Lei è tifoso Purtroppo Lo dicevamo In apertura Per quanto riguarda Il basket Non c'è stata La bella notizia Un'occasione sprecata Considerando che Anche Zelona Ieri sera Ha perso Certo Mi auguro Che questo Non sia stato Previsto Prima Il problema Che forse Lavellino Non riusciva A gestire Le due competizioni Quindi si è cercato Di uscire Volontariamente Da questa manifestazione Mi auguro Di no Anche perché Da quello che so È rimasta In un'altra Manifestazione In un'altra Competizione Che è ancora più Faticosa Rispetto a quella Da cui è uscita Quindi speriamo Che è solo Un'occasione persa Carlo Solo un'occasione persa Come dice il dottore Sì C'è parecchio Rammarico Per quello che è accaduto Che è accaduto ieri Perché abbiamo perso Contro una squadra Già fuori Da tutte le competizioni Ultima in classifica È vero che ha giocato Con la spensieratezza Delle formazioni Che si trovano In quella situazione Di classifica Ma è anche vero Che noi Siamo il doppio Più forti Di queste squadre E non riusciamo a vincere Purtroppo la Scandona Attraversa Un momento negativo Stiamo pensando Che siamo primi In classifica In campionato Quindi Questo non ce lo Dimentichiamo mai Però sta attraversando Un momento negativo Soprattutto nei suoi Vomini migliori Rich Ha steccato Qualche partita Ed è anche normale Insomma Non potete arrestare Il Rich L'abbiamo visto Fino ad oggi Perché stavamo parlando Di un alieno Però in questa fase Stiamo pagando Dazze Forse in un momento Cruciale Per quanto riguarda Il problema Il problema è che Siamo scivolati Nel limbo Perché la manifestazione Che andremo A giocare Che questa Eurocup Forse non si chiama Neanche proprio così Però È composta Da formazioni Semi sconosciute E nelle zone Più assurde D'Europa Andremo a giocare Quindi Le energie Paradossalmente Si saranno Forse saranno Sprecate Il doppio Rispetto a prima Fare delle trasferte Anzerbaijan E poi ritornare Si perde forse Anche più giorni Di lavoro Si scarica Si deve comunque Onorare Io spero Che venga fatto Venga onorata La competizione Però È una bella grana Io non Non credo Non ci voglio credere Non voglio neanche pensare Che siano Abbiano abbandonato Di proposta La competizione No 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 Però Lo so che abbiamo finito Però Un minuto Lo dobbiamo dedicare Anche al calcio Dal palazzetto Ci spostiamo Poco Lontano Contro il Cesena Sarà una battaglia Da vincere Lo dice Di Tacchio Ma soprattutto Lo vogliono i tifosi Sì Purtroppo Vediamo da questa sconfitta Un po' ce la siamo Accercata A Foggia Sabato C'è il Cesena Ma la affrontiamo Con gli stessi problemi Di Foggia Abbiamo Parecchi infortunati Anche questa volta Io Sono abbastanza critico Sul mercato Che ha condotto Lavellino Perché è vero Che è arrivato qualcuno Ma Questa rosa Pecca in alcuni ruoli Soprattutto Ci sono pochi ricambi E se sono tutti fermi E perdi due partite Hai perso sei punti È vero che non puoi comprare Per due partite In giocatore Ma è anche vero Che se invece di due Sono quattro partite E va in difficoltà E l'allenatore Lo guardi Si gira indietro Fa una brutta faccia Quando guarda la manchina Ma non perché Perché non arrivi I cambi in quei ruoli E che cosa Gli vuoi dire Non puoi dire Che ha fatto un mercato buono Ma quindi Lo stesso allenatore Con le sue smoffe Dice che C'è qualcosa che manca Però Infatti Avellino Galazzi resta out Ma Bidaui È quasi guarito Dobbiamo solo sperare Che giochi a nostro favore Almeno il fattore campo Beh certamente È stato sempre A nostro favore In passato Speriamo che Speriamo che domenica Riusciamo a finire La partita in undici Soprattutto Gli infortunati Sono decisivi Questo è ovvio E quindi non ce la possiamo Prendere con l'allenatore Assolutamente Bene Siamo giunti Alla fine Abbiamo rubato Anche qualche minuto In più Ringrazio i miei ospiti Il dottore Francesco Sellitto Che spero di riavere Quanto prima Carlo Conte Ci rivediamo Nelle prossime ore Per affrontare Un'altra giornata Di lavoro Grazie per averci seguito Appuntamento Con me A giovedì prossimo Grazie per averci seguito Ciao a tutti Grazie per la visione!